Il 25 agosto ci sarà una rassegna dialettale dal titolo Cum girar afni, cioè come andrà a finire. È uno spettacolo, logicamente molto comico, dove a causa di malintesi la situazione comincia in un modo e poi non si sa come andrà a finire. Quindi vi diamo la garanzia di un divertimento assoluto e viva il dialetto, che altro devo dire. Assolutamente sì, ma lei prenderà parte a un ruolo particolare? Allora, io tra virgolette sono la regista di questa piccola cosa, come anche di altre. Noi facciamo tanto teatro, non soltanto dialettale, ma anche teatro in lingua. Però ecco, una cosa alla quale tengo è dire che qui a Fano veniamo sempre con un grande entusiasmo, perché c'è un'organizzazione bellissima, le persone sono molto simpatiche e molto calorose, quindi è viva l'estate Arena Fano. Il teatro per tutti e anche per i giovani, dicevamo. Sì, noi facciamo attività di laboratorio teatrale per i ragazzi e anche per gli adulti, perché siamo un po' fanatici e riteniamo che il teatro sia un'opera educativa non da poco. Sì, come vi, direi.